Buonasera, ben ritrovati a Vita d'Atleta. Quest'oggi in studio ospite una pioniere, possiamo definirlo dello scialpinismo valtellinese, ma possiamo anche dirlo nazionale, Enrico Pedrini, meglio conosciuto come Chico Pedrini. Ciao Chico, grazie. Grazie a voi. Benissimo. Quando sei arrivato cinque minuti fa qua in studio ti ho chiesto, ridendo, se è venuto a piedi e invece tu mi hai detto no, non sono venuto a piedi, ma sono venuto in macchina, ma sono arrivato tre ore prima del nostro incontro e mi sono fatto un giretto in bici. Insomma, sei andato fino al Bernina, sei tornato indietro, la passione per lo sport ti è rimasta e come? Beh, quello sì, è sempre stata un po' la mia vita e quando riesco a fare una fatica, dico sempre controllata perché ormai non devo più fare gare così, ci tengo e poi una giornata come oggi, una temperatura come oggi a Livigno, adesso non voglio dire che ero abituato a sciare sempre sotto zero. Oggi sono partito le otto, maglietta e pantaloncini corti, sono andato fino al Bernina, qualcosa di stupendo. La natura nel tuo DNA, indubbiamente. Il tuo nome, Chico Pedrini, è conosciuto nell'ambiente della montagna come pioniere, l'ho già detto prima, dello scialpinismo che una volta si chiamava a rally, i relici alpinistici, ma in verità la tua carriera è cominciata quando avevi 12 anni ed eri un fondista. Esatto, allora il Chico arriva proprio da, è stato l'abbreviativo che mi ha dato il mio primo allenatore, il mio scopritore Benito Moriconi e allora sono rimasto Chico dappertutto, anzi mi hanno cambiato un po' anche in casa perché mi hanno chiamato Chico da allora e ho iniziato sì a 12 anni con lui a far fondo e ho continuato fino a 28 anni sempre a far fondo e poi c'è stato un attimino di titubanza quell'anno che è andato in voga lo skating, la tecnica libera, la tecnica libera, io fino ad allora ero un buon alternatista, stile classico e così via e ho avuto un po' di problemi a fare i risultati con quella tecnica. Ad adattarti a quella tecnica, seppur che Benito Moriconi fosse uno che se ne intendeva e come anche dello skating. Eh sì, però in quegli anni lì c'è stato addirittura un paio d'anni che anche a livello fis hanno avuto problemi, io mi ricordo che in una gara di Coppa del Mondo a Davos qui vicino per non far appartinare gli atleti perché non c'era ancora un regolamento avevano messo un cordolo di neve in fianco ai binari e poi niente, poi in pochissimo tempo hanno deciso di fare gare tecnica classica, tecnica libera, 50% e poi da allora io ho continuato a sciare e poi lì abbiamo cominciato a pattinare. Beh, un'ottima carriera tra gli sci stretti la tua, hai vinto 5 titoli di campione italiano e non solo. Sì, oggi come oggi, anzi proprio l'altra sera hanno premiato gli atleti qui dall'Alta Valle e c'erano degli atleti che hanno vinto le Olimpiadi, adesso se non si va, se non si vince le Olimpiadi quasi quasi non si è più nessuno, però in effetti bisognerebbe ancora tornare un attimino indietro e partire ancora di dire ho vinto il campionato provinciale, regionale, italiano e poi giustamente che ai numeri deve fare tantissimo sacrificio. penso per arrivare a raggiungere certi risultati. Avevo vinto anche la curricula che a livello juniore, a svent'anni, era un po' come il campionato del Centro Europa. Certo. Come avevi detto te, c'era Moriconi che era un po' lo scopritore, intenditore e mi vedeva come un futuro proprio roseo nel fondo, poi c'è stato qualcosa che proprio non ha funzionato tutto bene, però quello capita. Non addentriamoci troppo nelle motivazioni per le quali ti hanno visto smettere anche in età piuttosto prematura con lo sci di fondo, diciamo solo che era l'epoca in cui è entrata in auge Conconi, medico sportivo che insomma arrivava ad ottenere determinati risultati e non in maniera del tutto lecita. E tu in poche parole hai detto no grazie io non ci sto e abbandono, è stato così? È successo così senza rammarico per amor di Dio e anzi mi ricordo che avevo il terzo punteggio fra i fondisti italiani, c'era se non sbaglio c'era il migliore ravanzetta, poi polvare il terzo rio, dietro di me c'era gente tipo Albarello, Dezolt, Ploner eccetera eccetera che poi sono riusciti anche a vincere delle medaglie negli anni successivi, però senza rammarico è stata la mia scelta e va bene così. Erano gli anni dell'emotrasfusione? Esatto. E qua ci torna alla mente anche il buon Silvano Barco che lui in maniera molto più plateale ha detto basta e insomma ce lo ricordiamo tuttora tanto di cappello a lui e anche a te in questo caso. Sì allora noi eravamo anche proprio in quel momento i colleghi di club perché eravamo nelle fiamme gialle e si era confidato molto con me in questa scelta, lui forse aveva dei numeri migliori dei miei per fare risultati e ha anche fatto degli ottimi risultati, ha vinto marcia lunga, però è stato uno che magari ha proprio detto quello che pensava, come dicono il buon tacer non fu mai scritto, però lui non dico ha fatto bene o ha fatto male, però nel suo DNA ha detto io lo vedo così e così, è andato un po' in contrasto con la federazione, allora c'era Mario Zittà il direttore tecnico e infatti lui è sempre rimasto su quella linea lì. Benissimo, quindi nel 1982 hai detto stop con lo sci di fondo, eri un finanziere, eri nelle fiamme gialle, quindi prestavi servizio o eri pure uno sportivo e lo facevi a tempo pieno? Io devo ringraziare le fiamme gialle perché 11 anni che sono rimasto nel gruppo sportivo a Predazzo ho avuto la possibilità di fare lo sport 24 ore su 24, ho avuto la possibilità di allenarmi come professionista, avevo la mia paga, la mia sicurezza, quando è capitata questa scelta di smettere, da una parte mi è dispiaciuto perché 28 anni nel nostro sport magari c'è ancora qualcosa da scoprire, da far vedere, si era liberato un posto nella stazione di soccorso alpino Bormio, c'era stata questa entrata dallo skating e ho accettato di smettere nel gruppo sportivo e sono venuto a Bormio a fare servizio nella stazione di soccorso. E nel 1983 diventaste Guida Alpina? Esatto, sono diventato aspirante Guida Alpina nell'83, dopo tre anni di attività nell'86 ho conseguito il patentino di Guida Alpina. Quindi nel soccorso alpino della Guardia di Finanza quello era il tuo lavoro, insomma la tua passione? Sì, quello ce l'avevo un po' nel sangue, ecco un pochettino di rammarico anche lì che durante quegli anni che si è giovani, non si è ancora sposati anche se io mi sono sposato tardi però, volevo fare un po' il mio sport allenandomi bene senza perdere tempo, ecco fare due sport mi sembravano già troppi. Ho conseguito il patentino facendo un'attività normale senza, mi sarebbe piaciuto andare in Nepal a provare alle quote oltre i 7-8 mila come se poteva reagire però questo non mi è capitato, attualmente penso che non accetterei più una proposta di andare lì. Però le Alpi, le maggiori vette alpine le hai scalate un po' tutte? Sì, qui ho girato abbastanza, sono un tipo che ognuno ha le proprie idee, ecco la mia zona mi piace diciamo conoscerla bene, tanti sentieri così, ad esempio uno l'ho scoperto proprio in marzo quest'anno che non l'avevo mai fatto nonostante l'età, ecco mi piace proprio nella mia zona dire sono passato, la conosco bene. Allora se l'hai scoperto tu figurati non la conoscerà nessuno, se ci vuoi, se magari così almeno anche noi amanti della montagna possiamo scoprire, ci svegli il nome. No, c'è stato che anche nello sci alpinismo sono sempre stato uno che cercava l'allenamento, il miglioramento nella prestazione agonistica e non mi sono mai sbilanciato a fare certe vette, certi canali come si usa adesso, certe cose nuove, ero un po' un tradizionalista per come l'atleta che corre in pista e cerca il tempo in pista e tanto per dire abitando Bormio non avevo mai fatto gli aioni dalla raid che sono quegli aioni che sono appena sopra i bagni vecchi, quest'anno c'era tanta neve e addirittura sono salito tre volte, ho fatto anche un canalino, non dico che non l'aveva mai fatto nessuno, però anche un po' ripido, con la piccozza e sono andato anche al becco dell'Aquila, quando d'inverno non mi era mai successo di dire vado con gli cili. Alta un attimo Chico, tu sei guida alpina quindi assolutamente non è una cosa alla portata di tutti, bisogna essere dei super esperti, non improvvisatevi a fare escursioni troppo rischiose. Sì, questa qui è una discussione che abbiamo avuto anche durante le gare addirittura perché i primi tempi di gare, prima nei rally poi nelle gare di sci alpinismo erano sempre coppie, poi a un certo punto hanno cominciato a farla un po' in pista e a farla individuali, allora c'era sempre una discussione però le gare individuali in montagna dove magari c'era anche il ghiacciaio era una cosa che a me non andava tanto, come penso anche a tanta gente, ci sono dei clienti che ci chiedono l'accompagnamento per essere sicuri e noi andiamo un giro magari da soli, neanche tanto attrezzati bene, non va bene. Io ho fatto pochissime cose da solo, consapevole che non è proprio il massimo. Poi c'è qualche alpinista che per trovare la performance, la notorietà ha magari anche proprio le capacità fisiche e psichiche di farlo. Certo, psicologiche. Quindi il tuo monito è quando uscite in montagna uscite in compagnia, insomma la sicurezza in primis. Hai cominciato, eri nel soccorso alpino quindi, come attività svolgevate quella dello sci alpinismo? E lì ti sei appassionato alle pelli di fuoca. Esatto, siccome, come ripeto, i primi tempi lo sci alpinismo era, o con gli sci da fondo, che l'ho praticato anche fine stagione agonistica a Predazzo, c'era un mesetto, se facevano le gare di sci alpinismo, con gli sci da fondo. E poi, quando sono arrivato a Bormio, c'erano i rally, che erano sempre con gli sci da alpinismo, una breve, così, il rally era una, c'era un tempo per la gara, un tempo totale che poteva essere di 4-5 ore e in questa fase di 4-5 ore c'erano due prove speciali, una in salita e una in discesa, poteva andare dai 5-6 minuti ai 20 minuti in base un po' alle scelte degli organizzatori e una prova di discesa, di solito era slalom gigante, da un minuto, un minuto e mezzo ai due minuti e poi c'era una formula, la famosa formula Lazzeri, che corrispondeva un po' ecco, in salita ogni secondo era una penalità e per andare circa pari doveva esserci un minuto e mezzo di discesa e i 10 minuti in salita più o meno si accontentava, quello che era forte in salita e quello che era forte in discesa. E lì per qualche anno abbiamo praticato questo sport. Abbiamo? Perché in coppia con te c'era? In quel periodo c'era quasi sempre Angelo Andreola, un mio ex collega, però lui aveva già famiglia e tirava un po' indietro, non voleva come andare a far tutte le gare e così. Allora salto aria mente e riuscivo a trovare il compagno per andare a far le gare, tipo il papà di Robert, l'avevo ingaggiato due o tre volte. Il papà di Robert Antonioli? Robert Antonioli, collegolo scialpinismo. Finché nel 94 si era fatto male, mi sembra in marzo, il Adriano Greco che era il socio di Fabio Meraldi e il Fabio Meraldi mi ha chiesto di correre con lui fine stagione e poi abbiamo fatto altri cinque anni successivi assieme, sempre coppie, però allora abbiamo fatto la gara di scialpinismo che sono le gare di tutt'oggi. Partenza e arrivo senza respirare. Senza respirare veramente. Chico, tu hai accenato altri nomi che hanno fatto la storia dello scialpinismo, ma non solo nazionale e mondiale, Adriano Greco e Fabio Meraldi, insomma due icone della specialità. Con Fabio Meraldi poi hai proseguito la tua attività. Tu hai accenato prima che le prime uscite di scialpinismo, anche a livello agonistico, erano con gli sci da fondo e nel tuo palmarès c'è una mezzalama con gli sci da fondo e la vincessi anche. Esatto, esatto. Allora io sono riuscito, vabbè, sono più noto, diciamo così tra parentesi, perché nel 97 ho vinto il mezzalama con gli sci da sci alpinismo attuali, vabbè adesso sono cambiati nel senso che molto più leggeri e tutto, però l'attrezzatura è quella, con Fabio Meraldi e Omar Oprandi, un bergamasco. però ho avuto la fortuna che 19 anni prima, nel 78, sono riuscito a correre, c'era il limite di età, 21 anni, e io ho appena fatto i 21 anni, ho fatto il mezzalama con gli sci da fondo, era un pochettino, si partiva un po' più in alto dal col del Teodulo, si arriva sempre a Gressonei. e allora ho corso con Terzer, Carlo, che poi è diventato anche campione italiano di maratona, e un finanziere di Cavalese, Weber Marziano, che era stato anche poi sindaco di Cavalese, ecco, sono dei ricordi. E ero nella seconda squadra della finanza, perché nella prima c'erano i due Darioli e non mi ricordo più il terzo chi era, però è stata una bella esperienza. Una mezzalama, nel 1997 la vittoria, nel 99 la seconda piazza, e nel 2001 il terzo gardino del podio, insomma, era nelle tue corde questa gara? Sì, anche perché ho anche un po' di anni, e poi nel 2003 non mi sono presentato, perché ho detto, qui ho fatto il podio per tre anni, qui rischio di arrivare al quarto. Perché non ci stavo. Allora non potevo, diciamo, sminuire la mia carriera, ho detto, basta, se sono sempre stato sul podio, basta. Avrai avuto modo magari di partecipare come spettatore, altrimenti di seguirlo in tv da casa, dei bei ricordi, è sempre una manifestazione unica. Sì, tutt'oggi, anzi, poi con l'arrivo adesso di internet, non fanno in tempo finire le gare che ti danno la classifica. Di qualsiasi sport, io sono cresciuto nel fondo, la mountain bike magari... Ed è un capitolo che apriamo tra un attimo. Sì, alpinismo e anche la corsa, la corsa in montagna, così, e mi piace guardare le classifiche, così, non vorrei dire, anche criticare un po', perché certe cose non dovrebbero farle, così, comunque, ecco, è stato bello. Poi ultimamente ci sono delle tv che trasmettono parecchio, anche se quell'anno lì, nel 97, addirittura la Rai aveva fatto, non vorrei dire, come cinque ore di diretta. Sì, sì, sì. Mi sembra che avevamo fatto una parentesi con Tone Valeruz, che aveva fatto la nord della presanella, non vorrei sbagliarmi, in frac. Avevamo messo i pali, avevamo fatto lo slalom e lui era sceso in frac e durante la nostra gara lui aveva fatto questa discesa. Molto stiloso. Esatto, esatto. No, poi Tone Valeruz è uno che, nell'alpinismo, come ne abbiamo parlato prima, c'è uno che un piccolo segno l'ha lasciato. E per non farti mancare nulla, Chico, hai nel tuo palmaresse cinque vittorie al Sella Ronda. Sì, il Sella Ronda è stata un po' una delle prime gare, proprio la prima stagione che abbiamo fatto assieme, proprio completa, io e Fabio abbiamo fatto tre gare nel 94, poi nel 95 abbiamo iniziato, è stata proprio la prima edizione, ci ha chiamato Valentini Sergio, una guida di Canazè, il promotore della Sella Ronda. Mi viene anche in mente che tre anni fa sono morti tre suoi colleghi in una valanga e lui è rimasto sotto la neve, mi sembra, per quattro ore, però ha avuto la fortuna di portare a casa anche la pelle. Allora mi ricordo sempre di Sergio e ci ha invitato a questa Sella Ronda, era nuova per tutti, 42 chilometri, quattro passi, così. Niente, siamo riusciti a primeggiare, quell'anno lì poi siamo arrivati, che mi ricordo che a salire al Pordoi c'erano 20 centimetri di nefresca, era passata la motoslita, però c'era proprio, bisognava battere la traccia. E, vabbè, un bellissimo ricordo, anche se adesso a distanza di 17, io ero 95, se non sbaglio, si sono abbassati anche un po' i tempi di percorrenza, però un po' l'attrezzatura, un po' qualche modifica nei passaggi, tipo corvare, così, comunque va tutto bene, ogni era ha la sua attrezzatura, i suoi campioni. Infatti, volevo chiederti, nel giro di 20 anni, secondo te è cambiato molto lo scioalpinismo? È cambiato, nell'attrezzatura molto, anche se io, quando facevo i rally, avevo un'attrezzatura che pesava sui 2,8-3 kg per il paio dei sci e gli scarponi, forse anche qualcosina in più, perché c'erano appunto queste fasi dalla gara tranquille, che erano fasi di trasferimento, anche se aveva un po' di peso, non costava tanto. Adesso, partenza e arrivo, più sei leggero nel peso, anzi, adesso dicono che gli atleti devono essere pelle e ossa, perché il peso è fatica. Sono tutti nella stessa condizione, tutti gli avversari, anche se dicono lo sci non tiene bene in discesa, però alla fine cercano di essere tutti leggeri, il peso ha influenzato molto sui tempi, anche se non vorrei fare una pubblicità, nel 94 avevo fatto Bormio, la Rocca, le piste che mi allenavo io, con un'attrezzatura che pesava parecchio, lo sci pesava un chilo e settetti, oggi un chilo e settetti, sono tutti due paia di sci e magari anche due paia di pelle di foca. Esatto, l'avevo fatto in 40 minuti e per chi se ne intende il sci alpinismo, lascio loro, ero salito al 3000, 1800 metri di livello, sempre sulla pista da sci, in un'ora e 30. Ecco, dopo questo non voglio fare una pubblicità, sono tempi che ho sul mio diario. Hai fatto bene Chico a darci questo riferimento, perché tutti gli appassionati dello sci alpinismo conoscono i punti di riferimento da Bormio alla Rocca, da Bormio al 3000, quindi ci faranno un pensierino tutti gli appassionati di sci alpinismo. Non ti sei fatto mancare un po' di mountain bike. Nel 1991 ti sei laureato pure campione italiano assoluto di questa specialità. Sì, erano i primi anni del mountain bike, era il terzo campionato italiano, l'avevamo fatto, se non sbaglio, nel 1989 nel Vigneto, nel 1990 a Bormio, e io avevo preparato il percorso, però non ero ancora tesserato con la federazione e non avevo partecipato a questo campionato, avevo dato però il contributo di fare il percorso a Bormio, e poi nel 1991 ho fatto il campionato, italiano, correvo per una società di Milano, perché, ripeto, erano proprio i primi anni, e poi quell'anno lì, venti giorni dopo, ho fatto anche il campionato del mondo, che era lì al ciocco, che era il primo campionato del mondo. E ti sei difeso alla grande? Come campione italiano, avevo potuto partecipare senza le varie nazionali così, ho sollevato il 35esimo, ripeto quello che ho detto all'inizio, adesso se non si vince qualcosa, non si è più nessuno però, è stata una soddisfazione per me, perché c'erano i grossi nomi del ciclismo, e poi anche fra i nostri italiani, c'erano ex professionisti che avevano appena smesso, tipo Giuliani, che ha un figlio, mi sembra che corre ancora, il fratello di Cipollini, c'era Paganessi, Norris, che andava fortissimo, e tutt'oggi c'è chi smette nell'attività su strada, e va a fare mountain bike, e viceversa, tipo Cade Evans, se qualcuno che hanno iniziato con la mountain bike, e poi sono andati sulla strada. Esatto, beh, quindi al fianco della tua maglia tricolore di mountain bike, hai anche quella di campione europeo, sempre di scialpinismo, era il 1996, sempre in coppia con Fabio Meraldi. Sì, allora non c'era un programma tutti gli anni, la gara di Coppa Europa, Coppa del mondo, però, quell'anno lì, c'era una gara, c'era la Coppa Europa, a tappe, mi sembra, i migliori tre risultati, su cinque gare, io ne avevo fatti per impegni di lavoro solo tre, però le abbiamo vinte, e ho questa coppetta, c'è anche un po' di rammarico, perché poi nel 2002, se non sbaglio le date, c'è stato anche il primo campionato del mondo di scialpinismo, però, non voglio dire che avevo una certa età così, e ho smesso di correre proprio l'anno prima, diciamo, però va bene così, va bene. Quindi la tua fine carriera fu nel 2001? Fu nel 2001, no, ho fatto qualche garetta con mio nipote così, perché sembrava, però, dico la verità, tutt'oggi, non mi viene in mente di mettere il pettorale, né metterlo sulla bicicletta, né sullo zaino, ecco, come stamattina ho fatto un giro in bici così, proprio, tipo, non dico, poi guardo i tempi, guardo la media, guardo tutto, però non ho nessuna belleità di correre ancora, ma neanche fra gli amatori o così. Hai accennato a tuo nipote, Daniele Pedrini, ricordiamolo, anche lui è un fortissimo atleta poliedrico, nello scialpinismo in particolar modo. Sì, lui poteva avere una buona possibilità nel lontano 95, che allora aveva 18 anni, nelle Fiamme Gialle conoscevo, io ero appena uscito, diciamo, e conoscevo bene un po' i vertici del gruppo sportivo, e mi avevano detto, se lui vuol venire nelle Fiamme Gialle, noi abbiamo fatto la proposta a Roma di allargare il gruppo sportivo, con lo scialpinismo se non sbaglio c'era il freestyle, le proposte erano, poi lo snowboard, mi sembra che erano quattro sport, e lo scialpinismo se passa questa richiesta, farà parte del gruppo sportivo, altrimenti potrebbe fare la scuola di rocce e di sci, e poi magari arrivare magari a Cavone e fare servizio, e siccome suo padre aveva parecchie mucche così, lui aveva tanta passione, magari un pochettino più per le mucche, e mi ricordo che mi aveva detto, adesso noi abbiamo fatto la stalla nuova così, lo ritaglierò qualche piccolo spazio di tempo per fare qualche gara solo, e però si è anche difeso, perché se non sbaglio è arrivato al secondo, una volta anche al Mezzalama, e ha vinto anche un Paravicini, che non lo abbiamo mai accennato, però mi ricordo che quando ho iniziato io la carriera di sci alpinista, Moriconi aveva fatto il Paravicini qualche volta come Fiamme Gialle di Como, e tutt'oggi, me l'aveva spiegato come era come gara, come tutt'oggi è un percorso di tutto rispetto, alpinisticamente veramente impegnativo. Chi col tuo compagno di sempre, quindi nello sci alpinismo, è stato Fabio Meraldi, lo conosciamo, e oltre ad essere un grande campione, una grande guida, è veramente simpatico, e credo che ci sarà un aneddoto, che ci vuoi raccontare, di qualche disavventura simpatica, che vi è accaduta nella vostra carriera. Quello che ho detto prima, sulle classifiche, guardo così, ci sono tante cose che non vorrei criticare, ecco una cosa, è quella ad esempio nello sci alpinismo, la gara a coppie, la gara a coppie, non voglio dire, noi ci siamo, ci eravamo affiatati parecchio, forse perché io ero di un certo livello, anzi lui, il primo anno andava a Brescia dal professor Rosa, che allena i keniani, e così, e l'aveva trovato, migliorato addirittura, nei dati, dei valori, e gli ha detto, hai cambiato socio, che aveva più forte di te, hai dovuto migliorarti anche te, tanto per dire, e noi quei cinque anni, che abbiamo corso assieme, eravamo, non dico, proprio affiattati, però, ci bastava uno sguardo, ci capivamo in tutto, giustamente ci sono state anche, magari, delle piccole incomprensioni, però, avevo imparato anche da parco, non mi andava di nascondere, per far andare tutto liscio, mi piaceva dire com'era, e bene o male, noi questi cinque anni qui, abbiamo passato anche dei bei momenti, perché mi ricordo la sera prima delle gare, la piramenta, una gara a tappe, la tensione, domani, il distacco, non il distacco, il fine della gara, magari la vittoria, e un po' più rilassati, contenti, c'è anche il rammarico, che forse non abbiamo mai festeggiato, proprio queste vittorie, che al giorno d'oggi, chissà cosa pagherebbero, certe squadre per vincerle. Indubbiamente, allora, te la imbocco io, so che durante determinate vittorie, alcune televisioni facevano le interviste, magari anche in francese, o addirittura anche in lingue, non lo so, cecoslovacco di una volta, e il buon Fabio si cimentava con nonchalance, anche sul francese in particolar modo. Sì, però la più bella è stata, questo è verissimo, perché lui, lui si buttava e parlava, un mio amico di Predazzo, che è il papà di madre francese, sa benissimo il francese, una sera stava parlando con i francesi, lui parlava, gli altri rispondevano e viceversa, e lui ha ascoltato e ha fatto silenzio. Il giorno dopo, mi diceva, ieri si ero assistito al dibattito di Fabio, ai francesi, e mi ha detto in dialetto suo, pardazzano, ma se lo sente il mio padre, lo occupa, se lo sente il mio padre, lo ammazza a parlare così. Questa era una, però una proprio bella, bella è stata che, se non sbaglio, forse l'ultimo anno che abbiamo visto la piramette, nel 2000, stavano un po' crescendo, anche i servizi specializzati, tipo Schialper, che allora era forse alle prime armi, era arrivato proprio il direttore Enrico Marta, e ha voluto mangiare anche con noi, così sapere un po', erano anche un po' profani, diciamo, di questo sport, perché in effetti, e mi ricordo che, allora io gli tentavo un po' anche a Fabio, gli ordini come di scuderia, che il primo giorno, in una gara di quattro giorni, 10.000 metri di svello, 10 ore di gara, gli diceva, guarda che il primo giorno vanno tutti, sono tutti riposati, e il secondo giorno qualcuno cominciava a abbassare le ali, poi il terzo giorno c'era sempre la tappa clou del Gran Mont, dico ecco quei giorni lì, quando abbiamo vinto, anche quell'anno che siamo arrivati i terzi, dico la verità, ho bellissimi ricordi, perché è qualcosa di eccezionale, e niente, allora Fabio gli ha spiegato la nostra strategia, a questo Enrico Marta, e allora Fabio, lui aggiunge sempre i suoi aggettivi, dice no, perché dopo due giorni, o tre giorni di gara, questi qui sono tutti inclociti, allora abbiamo riso per 10 minuti, e poi ho dovuto fare la traduzione, cosa voleva dire inclociti, perché di solito noi in dialetto, quando la gallina si scava la buca, si mette lì al sole a riposare, se l'inclocita, quindi l'ha tradotto dal forbasco all'italiano, ed è riuscito inclociti, benissimo, stiamo in chiusura Chico, che consiglio vuoi dare ai giovani, sia dai moltissimi campioni che abbiamo qui in Altavalle, e anche a chi si appresta a vivere lo sport, in maniera un po' più blanda, o ai giovani stessi. Allora, i tempi miei, arrivare adesso è cambiato un po' qualcosina, ad esempio io non dico ero forte, mi avevano richiesto nei corpi militari, di qua, di là, la polizia, c'era il Gianfranco Stella per l'esercito, ho scelto le fiamme gialle, perché c'era Muriconi che era delle fiamme gialle, oggi è molto dura, perché il supporto di una paga, di un corpo militare è importantissimo, però vorrei dire che per raggiungere certi risultati, che sia nello short track, che sia nella corsa in montagna, nella discesa nel fondo, che sono gli atleti che hanno premiato l'altra sera all'Altavalle, bisogna fare tanto, tanto sacrificio, e ci vogliono tanti anni di crescita, tanti anni, tanti anni, e purtroppo lo so che i ragazzi arrivano a 14 anni e cominciano già a fare una scelta per gli studi, forse ai miei tempi eravamo un po' più abbandonati, e beh, al limite fra il maestro di ci dicevano, è vero, e magari anche dai lavori manuali era più facile trovarli, diciamo manuali nel senso generici, mentre adesso è un po' più difficile, poi arrivano i 19 anni, noi abbiamo qui anche degli atleti che a 19 anni vorrebbero andare all'università, vorrebbero continuare, però è durissima, però non mollate perché si smette una volta sola. Fare sport, io non ho girato come te, però giri il mondo, conosci tanta gente, l'ambiente, poi lo so che sacrificio, però lavori facendo sport. Certo, quindi anche le lingue sono fondamentali, aggiungiamo e chiudiamo. Bene, grazie tante, tante, Chico Pedrini, campione italiano di sci di fondo, campione italiano di mountain bike, campione internazionale di sci alpinismo, guida alpina, ex piamme gialle, insomma, chi più ne ha ne metta, grazie davvero. Grazie a voi, grazie, arrivederci. Ed è tutto per questa sera, grazie per la cortesa attenzione, vi rimando all'appuntamento di mercoledì prossimo con vita d'atleta. Grazie ancora, buona serata. Grazie a tutti.